E' un uggioso pomeriggio padano, siamo qua a Rovivo per guardare la mostra di Ho visto il Toulouse-Lautrec Abbiamo prenotato una guida, ecco così meglio In sostanza quando Toulouse-Lautrec aveva la mia età era già morta da 15 anni La mia età era già morta da 15 anni Allora noi siamo partiti da Ferrara per andare a vedere Toulouse-Lautrec E poi quando siamo arrivati mi hanno detto che Toulouse-Lautrec è morto Cioè alla fine era una mostra su della roba che aveva disegnato Che cazzo ne so Che roba Ciao! Ciao! Grazie a tutti.